Io sono una classica punta d'area di rigore, ho delle caratteristiche ben definite, prediligo il gioco aereo, però ormai bisogna essere partecipi al gioco di squadra, quindi sono la classica prima punta. Colgo l'occasione di ringraziare la società, il presidente e il mister Longo che ci siamo un po' rincorsi con la Pro Vercelli, è da un po' di anni che c'è stato sempre un interesse e sono felice e orgoglioso di essere qua, soprattutto perché sono arrivato in una società storica, perché parla la storia gloriosa che è la Pro Vercelli con i suoi sette scudetti e sono lieto e orgoglioso di far parte di questa famiglia. Una scelta che ho accettato subito, nonostante avessi altre richieste, però credo che di aver fatto la scelta più opportuna è stata anche fatta una scelta anche di cuore. Sì, sì, con molti, ho giocato con Carlo Mamarella, con Palazzi, con Vayusci, con Germano, poi molti altri ragazzi, comunque li conosco bene, perché comunque adesso è il quinto campionato di Serie B e quindi i giocatori alla fine sono sempre gli stessi. Io sono piemontese, quindi conosco bene l'ambiente e conosco un po' tutto. Poi diciamo che a me mi piace molto lo stadio, qua al Silvio Piola, perché credo che si respiri un'aria importante di storia, proprio come è fatto. Mi ricordo un po' dalle foto che mi raccontava mio papà di un piccolo di un Philadelphia, quindi mi fa emozionare ogni volta che vengo qua, quindi sono fiero e orgoglioso di allenarmi e giocare in questo stadio.